Ciao, sono la dottoressa Elena e oggi ti voglio parlare della relazione che c'è tra il microbiota intestinale e le patologie autoimmuni. Numerosi studi hanno evidenziato come il microbiota intestinale sia molto importante nell'interazione con diverse patologie, come per esempio le patologie cardiache, come tumori maligni, le patologie gastroenteriche, le malattie al fegato, i disordini dell'umore e anche l'obesità, ma soprattutto si è evidenziato come l'alterazione della flora batterica sia importante e determinante nella relazione con patologie autoimmuni. Quindi se soffri di una patologia autoimmune è importante utilizzare dei probiotici specifici che vadano ad aiutare la flora batterica intestinale a regolarizzarsi in modo da migliorare anche le sintomatologie di queste patologie e ridurne l'infiammazione sistemica. Puoi utilizzare due diverse associazioni anche in alternanza. Puoi utilizzare due diverse associazioni di fermenti lattici, sostanze utili a ripristinare il microbiota intestinale originario. Il beta glucano con la vitamina C, il lactobacillus casei, il lactobacillus acidophilus e il bifidobatterium lactis. E poi puoi utilizzare tutta la serie di bifidobatteri, il bifidobatterium brevis, longum, il bifidobatterium bifidus e il bifidobatterium lactis.